Quinto risultato utile consecutivo, con solo una vittoria però, per il Novara che ha pareggiato 1-1 a Legnago. Il Novara ha aperto le marcature dopo soli 10 minuti di gioco grazie a un gol di Corti. Donadio ha servito un assist perfetto a Corti, che da una posizione favorevole ha trovato la rete, mettendo il Novara in vantaggio. La squadra ha dimostrato un ottimo controllo del gioco, gestendo la partita con sicurezza. Cercalo in programmi!